Proteste e scontri in Kashmir. Durante il funerale di un bambino di 12 anni ucciso dalla polizia venerdì mattina a Sinagar nel corso di una manifestazione indipendentista, le forze dell'ordine indiane hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro migliaia di dimostranti che protestavano per la morte del ragazzo. La folla stava marciando verso il cimitero cittadino portando a spalla il corpo della vittima quando la situazione è precipitata. Si sono registrati diversi feriti e decine di fermati. Le autorità hanno imposto un coprifuoco in molte zone della regione per controllare le manifestazioni contro il governo indiano.